ciao e buon anno e non so come avete passato il capodanno voi noi noi abbiamo passato in teatro eravamo io marta cortellazzo viel è un gruppo di 16 attori giovanissimi già bravissimi a modena abbiamo fatto bagordi e quindi abbiamo fatto le 4 del mattino ecco perché arriva un po in ritardo questo discorso di capodanno come avete passato no vi dico una roba se avete passato un anno de merda non dovete fare altro che andare da quelli che vi han fatto gli auguri al 31 dell'altro anno e dire cos'è che dicevi quella roba della prosperità auguri tanto benessere mi raccomando dimmi spesso dei consigli che io faccio il contrario questo dovete fare in ogni caso due balordaggini politiche le vogliamo dire no perché sento sempre dire in giro ma perché non si uniscono i partiti di sinistra per arginare questa destra sempre più arrogante incompetente che prende sempre più piede ecco ma guardiamoci in faccia se i partiti di sinistra si mettessero assieme quanto prendono il 2% e il 3% cioè non esistono partiti di sinistra in italia il pd è praticamente forza italia con degli aromatizzanti a i 5 stelle mi ricordano quei giovani che che si vantavano di fottere il sistema finché non hanno scoperto che al sistema piaceva e così hanno cominciato a farsi pagare la prestazione e e d'altronde da qui di destra vai partiti di destra non ne voglio parlare hai presente quello là dei fratelli d'italia che è andata a festa il capodanno armato ha cominciato sono partiti dei colpi han colpito uno ecco questo è il minimo minimo che mi aspetto da sta gente qua cioè voglio dire non mi aspetto di meno da da questa gente qua però è vero che in italia la sinistra è un po come la sigaretta elettronica ormai è rimasto solo il gesto insomma l'italia è votata ad essere un paese conservatore un paese conservatore dove la meschinità e l'invidia sono il pane quotidiano dell'opinionismo nazionale che una volta si esprimeva nel bar del paese mentre oggi trova luogo in quel immenso generatore di solitudine che tutti chiamano social votiamo dei meme e ci meravigliamo che siamo governati dai troll l'italia è un paese nel quale chi va a votare lo fa in preda al panico quelli del circolo balasso le hanno già sentite queste cose perché le ho dette in molti monologhi che ho fatto quest'anno ma io non voglio parlare della guerra delle violenze delle ingiustizie dei soprusi sono cose che avvengono tutti gli anni bisognerebbe fare ogni anno lo stesso discorso quest'anno voglio parlarvi del panico perché io mi guardo intorno e vedo che tutti si cagano in mano lo si capisce dagli atteggiamenti dalle risate isteriche sui social oppure gente che si attacca a vestigia del passato usa parole come identità avete notato quelli che parlano di identità spesso sono privi di identità se la tua identità è fatta di una serie di abitudini tu non difendi un'identità difendi una serie di abitudini ti identifichi come un mangiatore di bestie grigliate che fanno una vita da merda solo per i tuoi selfie in giardino finché il medico non ti dice che la carne morta che hai mandato a rogo durante la tua vita ha ridotto le tue arterie peggio dei bucatini alla matriciana lì cominci a prendere pastiglie dopanti a mangiare barrette bere giojoba e senti di avere perso la tua identità ma fare le grigliate non è un'identità è un'abitudine le abitudini si possono cambiare l'identità non cambia è irrinunciabile anche se tu non hai coscienza di quello che sei sei quel che sei non c'è niente da difendere anche perché se sei un mona non è caso di difendere il fatto che sei un mona a questo punto è meglio che rinunci alla tua identità scegli l'anonimato cazzo quando ero piccolo i vecchi mi dicevano se stai zitto fai sempre bella figura con i social potrebbe sembrare più facile capire l'identità della gente ma come fai a capire come sono fatte le persone se tutti ridono come i mona non c'è differenza guarda le foto dei social ridono tutti ma che cazzo c'è da ridere ma se non hai un pensiero ma se scrivi delle frasi che hai letto in giro ma se ma se metti sotto le musiche che poi sono le solite puttanate che sentiamo nei bar nei ristoranti tutti i giorni con questi testi da quinta elementare non c'è da ridere c'è da piangere cerchiamo di costruire un'identità attraverso una serie di abitudini va detto che oggi i giovani hanno abitudini migliori di quelle che avevamo noi ad esempio loro prima scopano e poi parlano avrei scopato molto di più in gioventù se non avessi parlato prima in fondo l'identità è solo un racconto che parla al tuo posto provate a descrivere voi stessi senza usare stereotipi senza usare tipologie magari dicendo quello che pensate veramente del mondo e non quello che pensate che gli altri pensino che voi pensate che si aspettano che dite che voi dite io non so se mi sono capito con quello che ho detto perché è facile dire sono una mamma sono cristiana sono italiana tipologie ci sono mamme che hanno ucciso i propri figli ci sono cristiani che hanno ammazzato un sacco di giovani in una festa in finlandia ci sono italiani che hanno portato il paese in guerra non c'è da vantarsi devi dirmi piuttosto cosa ha intenzione di fare per questo paese chi sostieni perché questo paese sia almeno un po più vivibile quelli che costruiscono capannoni a nastro quelli che vendono le armi che ogni volta che c'è una guerra sono contenti quelli che assumono la gente diventano potenti e poi licenziano tutti per una questione di vantaggi o quelli che deturpano il paesaggio che poi la stanza in cui tutti respiriamo per capire cos'è l'identità basta dare un'occhiata ai moduli per la privacy tu scrivi accetto alla fine di un documento di 600 pagine redatto da una manuense pagine che ovviamente non leggerai mai in sostanza c'è scritto che non riveleranno mai a nessuno tranne che ai loro 16.000 dipendenti gli orari in cui vai a cagare tutti questi dati su di te in realtà sono in vendita quando un politico entra in campagna elettorale la maggior parte dei soldi che spende servono a comprare questi dati che vengono definiti in una battuta comica consenso informato quintali di dati sui gusti su ciò che la gente ama sentirsi dire tutti questi dati vengono catalogati per tipologia se io voglio essere eletto mi rivolgerò agli elettori a seconda della loro tipologia mai mi farò vedere dai giocatori di golf vestito in carottiera mentre mangio salsicce se voglio rivolgermi agli amanti della trap mi farò fotografare vestito da cretino i politici durante le elezioni hanno svariate identità diventano schizofrenici hanno migliaia di identità e sono proprio quelli che vengono a dirti che devi difendere la tua identità a questo punto sei l'unico che ne ha una sola lo studio della comunicazione è il trionfo della menzogna è tutto finto i pandori con la beneficenza i politici l'europa è tutta roba finta che butti giù a cui fai finta di credere per allontanare l'angoscia i consigli del telegiornale la tua vita è solo un racconto ma noi abbiamo bisogno di questo racconto perché il cervello vuole un disegno del panorama non gli interessa che il disegno sia somigliante chi mai chiederebbe al telegiornale di dire la verità al telegiornale vogliamo una cosa sola che comincia la stessa ora che sia puntuale per il resto basta che dia una vaga approssimativa idea di informazione ad esempio quando il vostro treno non arriva impegnato com'è nel divertentissimo calambur tra alta velocità e 120 minuti di ritardo praticamente modalità monopattino perché il vostro cervello non va in panico perché c'è una voce rassicurante che vi ripete costantemente che il vostro treno è fermo a causa del guasto avvenuto su un altro treno è consolante sapere che il tuo treno se fosse per lui sarebbe puntuale perché lui l'ha preso sul serio questo fatto di essere ad alta velocità la colpa non è sua e dunque non è nemmeno vostra la colpa è di un fottutissimo regionale fermo a pinerolo è il celebre effetto farfalla cioè cinque minuti di ritardo nel rallentato pinerolo pinerolo che è un treno che va in tondo genera 120 minuti di ritardo sulla tratta ad alta velocità venezia bologna è come con l'economia un venditore di biglietti dell'ohio ha un ammanco di cassa il giorno dopo salta la deutsch bank ecco cos'è il panico se ci pensate un rapporto di coppia per esempio è come i treni si basa proprio sulla gestione dei ritardi e sulla negazione del panico perché il cervello vuole avere l'impressione di fare qualcosa non avremmo nemmeno inventato le religioni se non ci desse così tanto fastidio restare con le mani in mano mentre tutto va a puttane la religione se ci pensate è come quel pulsante che c'è nell'ascensore il pulsante di chiusura anticipata delle porte ne parlava il filosofo slavoj zizek diciamo che tu devi andare al secondo piano potresti benissimo prendere le scale ma vuoi mettere il gusto di fottere il pianeta e accelerare il declino dei tuoi arti inferiori prendi l'ascensore ora le porte dell'ascensore non stanno a guardare quanta gente entra aspettano un certo tempo prima di chiudersi quanto tempo passerà non credo che passeranno minuti passerà una manciata di secondi ma i costruttori di ascensori sanno che quei pochi secondi bastano perché tu vada nel panico perché non sai quando si chiudono le porte il panico cazzo non sai come comportarti non hai la situazione sotto controllo ecco perché gli astuti costruttori di ascensori hanno inserito nell'ascensore quel pulsante di chiusura anticipata delle porte tu lo premi e non importa che quel pulsante non sia collegato con le porte non importa che le porte si chiudano nello stesso tempo in cui si chiuderebbero se tu non avessi premuto quel pulsante l'importante è che tu abbia l'impressione di avere agito sulla realtà è come quando vai a votare tu scegli il pulsante del tuo colore ma le porte si aprono e si chiudono a cazzo e allora il popolo in preda al panico si attacca a quelle parole evocative che lo spettacolo del potere sa fare risuonare per riscuotere gli applausi ad esempio la parola merito è un bel mistero sicuramente da qualche parte c'è un'intelligenza aliena di natura divina che potrebbe spiegarcelo ma noi con i nostri mezzi umani che abbiamo a disposizione non riusciamo a dipanare l'enigma che sta dietro la creazione del ministro del merito che poi è anche il ministro dell'istruzione non possiamo nemmeno capire cosa voglia dire e tutti quelli che provano a spiegarcelo rafforzano in noi l'idea che il mistero sia fitto è presente quelli che ti dicono ma è logico no il merito va avanti chi se lo merita ma secondo voi se andasse avanti chi se lo merita quello lì sarebbe ministro all'istruzione quello lì è solo avuto culo che la gente in preda al panico ha votato i suoi amici e poi tutte quelle parole che si usano fateci caso per esempio quelle parole che i politici usano come verità vero reale originale autentico sono le stesse che si usano in pubblicità quando sento un accorato appello al voto immagino sempre un prodotto commerciale tutto il giorno in giro per lavoro per comprare le gomme della macchina per comprarci i wafer a mio marito che la sera non ci vedo più della fame e gode le vene varicose che parano la mappa del metro verde sono preoccupata come che farò a farcelo diventare barzotto al mio capufficio che sembro la custodia di me stessa di quando che avevo 20 anni sono preoccupata sono in preda al panico non ti preoccupare donna preoccupata invece di scofanarti un chilo de bigoli con dentro un porco perché non ti butti giù un litro della nostra brodaglia all'erba sganapina che così caghi come un cinghiale e dopo diventi come belen belen non mi ha mai detto granché salve hai visto che mi passo le mani fra i capelli che paro lino guanciale dopo colazione vuoi avere anche tu i capelli scuri a 94 anni trangugia la nostra lozione d'asfalto lozione d'asfalto ti caghi un po' addosso perché dentro c'è un po' di erba sganapina ma alla fine gai i capelli di un trombatore professionista quali sono i tuoi desideri quando avevi 20 anni facevi gli scalini a tre alla volta per salire in camera da lei adesso che ne hai 50 se fai gli scalini a tre alla volta una volta arrivato lì che lei ci sia o non ci sia fa poca differenza perché sei sfinito respiri come un compressore ma cedendo al diktat della dominante cultura della palestra che dice che devi dimostrare 10 anni di meno come tutti gli altri e quindi tutti dimostrano l'età che hanno alla fine insisti in uno sforzo titanico fai più fatica di un ruzzo la merde fai gli scalini tre alla volta ma alla fine riesci ad arrivare in camera da lei nella stanza lei non c'è ha lasciato un biglietto sul letto sono in piscina hai appena fatto tre scalini alla volta non è che puoi andare da qualche parte sei sfinito ti butti sul letto stai lì a pensare perché nonostante il biglietto hai la sensazione di andare nel panico cosa c'è che non va che sia per caso il fatto che la locanda al tugurio dove vi incontrate clandestinamente una piscina non ce l'ha è brutto è è brutto quando pur sapendo di non avere la situazione sotto controllo capisci che non puoi fare niente stai lì sul letto stremato accendi la televisione al telegiornale un esponente del governo dice che la situazione è sotto controllo hanno fatto una riunione straordinaria per parlare del problema di del della di che problema stanno parlando non riesce a capirlo sei stanco stai sfiatando come un mantice ma in fondo non importa quale sia il problema perché il telegiornale sottolinea la cosa più importante e cioè che hanno fatto una riunione e non una riunione qualsiasi una riunione straordinaria durante la riunione hanno varato un decreto quasi varano decreti a randa si stanziano somme con il solito metodo e cioè la somma stanziata per l'ultimo problema è stata sottratta alla somma stanziata per il penultimo problema ma l'importante è che la situazione sia sotto controllo nell'affanno della respirazione la vista approssimativa del telegiornale ti arrivano solo i suoni ma i suoni del telegiornale ti arrivano come se se tu fossi in apnea sott'acqua sarà varato un decreto per premere il pulsante di chiusura anticipata delle porte dell'ascensore ora i suoni del telegiornale sono sovrastati dai gemiti che giungono dalla stanza accanto è il pensionato che ci dà dentro con l'africana il 30 per cento dell'intera spesa pubblica va nelle pensioni l'italia è uno dei paesi che spendono più di tutti nelle pensioni perché siamo pieni di vecchi e facciamo finta che questo non sia un problema che questa non sia la realtà viviamo nel nostro racconto per dimenticare la realtà un racconto in cui domina imperiosa la puttanata oggi persino le personalità più attente intelligenti vengono ignorate dal grande pubblico se almeno una volta al mese non sparano qualche imponente puttanata il panico spinge a mettere tutto sullo stesso piano il mistero ci domina qualunque espressione di cui ci nutriamo quotidianamente è gremita di rimandi incontrollabili di cenni a fonti mai verificate di ipotesi fantasiose spacciate per storia e noi stessi diventiamo veicolo inconsapevole dell'enorme mole di cagate che si spostano da un cervello all'altro a una velocità impensabile solo fino a cent'anni fa un raduno di ubriachi batterebbe in termini di sensatezza qualunque vetrina social non siamo più capaci di meravigliarci giri per strada e vedi quelli coi jeans strappati e ti chiedi perché non gli scappa da ridere io se mi guardassi allo specchio e mi vedessi con le mutande fuori dalle braghe i jeans strappati le scarpe slacciate il collo da serpente mi scapperebbe da ridere cioè guardi i tatuaggi e se dici che ti sembra tutto un po bizzarro ti dicono che tu non capisci che viviamo in un'epoca in cui ognuno può scegliere come apparire hanno scelto cioè hanno scelto di apparire come tutti gli altri è la società dello spettacolo che si realizza e non puoi nemmeno dire che sarebbe da studiare questo desiderio che hanno tutti di apparire come degli ergastolani recidivi non puoi nemmeno dire che se tutti si fanno il tatuaggio il tatuaggio è solo un cazzo di moda non ha niente a che fare col dissenso che poi come sappiamo il mercato non combatte il dissenso lo ingloba è il packaging del dissenso io ti lascio portare le mie scarpe slacciate anche se ti metto dentro i lacci gratis però te le vendo a 300 euro perché so che tu ci tieni a mostrare il tuo dissenso fare finta di fottersene dell'outfit è diventato il nuovo outfit ti vendiamo le braghe già strappate non serve nemmeno che lo faccia tu ti vendiamo la vita di qualcun altro qualcuno che ha una vita talmente rischiosa avventurosa che si strappa le braghe non sei tu ma potresti sembrarlo e così hai l'impressione di provocare gli altri ma chi vuoi provocare se intorno a te tutti provocano tutti dimentichiamo in un lampo quello che ci hanno appena detto ieri ci siamo già dimenticati delle aziende energivore avete presente quella specie di incrocio tra Godzilla e la Montedison che deve nutrirsi costantemente di energia per sopravvivere e allora lo stato cosa fa preserva l'ambiente premia le aziende non energivore no lo stato fa in modo che si consumi sempre più ambiente creando le sovvenzioni per l'energia la sovvenzione per l'energia è il reddito di cittadinanza dei magnaschei noi che scriviamo i racconti che scriviamo il teatro che scriviamo il cinema che tentiamo un pensiero anche piccolo in questa slavina di merda vaghiamo come Don Quixote nella logica e forse siamo quelli più fuori di testa perché non lottiamo contro i mulini a vento lottiamo contro il vento stesso perché i mulini a vento non sono niente contro la mortale vehemenza del mulino bianco lo leggiamo nelle parole dei giornali lo sentiamo nelle voci teletrasmesse è un povero lessico fatto di sinonimi a ribasso di verbi consueti di aggettivi in canottiera di parole scosciate volgari proprio perché pudiche di quella pudicizia che per coprirsi le ginocchia mostra il culo tutto un frasario quotidiano povero zeppo di quelle ovvietà di cui persino paolo fox si vergognerebbe e se dici queste cose ti danno dello snob e non sanno nemmeno che cazzo sia uno snob te lo dicono soltanto perché l'hanno sentito dire a proposito di uno che ti somiglia fisicamente e mentre tu sei lì all'osteria che prendi mazzate da orbi perché sei don quixote ma devi parlare come sancio panza se no non ti capiscono gli intellettuali quelli veri se ne stanno nei loro convegni nelle convention per gente sveglia agli hotel termali nelle conferenze finanziate dalle patatine fritte nei luxury village guardati dalla security accendono poi nei ritagli di tempo il loro cazzo di telefonini da cupertino per scagliarsi contro la tua ignoranza e tu sai bene che è difficile trovare il tempo di combattere la tua ignoranza se devi fare risse tutto il santo giorno all'osteria dell'idiozia debor diceva che solo lo stato e gli ignoranti hanno bisogno di esperti ma allora vediamoli questi esperti del pensiero profondo se dovessi considerare tutta la fuffa che viene sparata dal club degli intelligenti lanciata come bombe a mano dai pulpiti del pensiero spettacolo rimane solo il nocciolo fuso della vaccata nucleare e allora siamo tra due fuochi da un lato i mulini bianchi dell'idiozia dall'altro la fuffa devastante degli intelligentoni il tutto controllato dal nuovo potere sociale che è il professionismo una serie di tecniche senza visioni un grande professionismo fine a se stesso che serve solo a stemperare le crisi di panico un mondo di gente che sa come si fa la televisione come si fa il cinema come si scrivono i libri persino come si fa il teatro ma che non sa a che cazzo servono queste cose ed è difficile parlarne perché nel frattempo si è impegnato qua dentro a fare a sportellate nelle osterie dove qualcuno ti dice che una volta Oriana Fallaci ha detto che la religione è l'oppio dei popoli allora tu gli dici che forse Oriana Fallaci l'ha letto da qualche parte e lui ti risponde ma come io ti indico la luna e tu guardi il dito come diceva Maradona capisci sei circondato da gente che indica la luna col cazzo siamo sommersi dai finti dibattiti come quello sull'intelligenza artificiale c'è gente che va nel panico ha paura che l'intelligenza artificiale non ci permetta più di distinguere il vero dal falso ma come è preoccupante cioè c'è gente convinta che fino adesso si potesse distinguere il vero dal falso ma in che mondo vivete a furia di frasi fatte da altri abbiamo smesso di pensare e continuiamo a ripeterci che le parole sono importanti ma non è che ci pensiamo veramente l'abbiamo solo sentito dire in un film le parole sarebbero importanti se sapessimo distinguerle e allora stiamo qua nel grande manicomio criminale che chiamano mondo della cultura dove ci sono quelli che fanno cultura i professionisti della cultura quelli che si scambiano i premi e le ospitate cosa significa fare cultura anche una parrucchiera fa cultura cosa significa essere professionisti della comunicazione lo è anche un barista dobbiamo ammetterlo tutto questo mondo del webinar serve più che altro a creare stipendi è il mondo dello stipendio del guiderdone e della prebenda un manierismo fatto solo di maniera senza sostanza perché senza scomodare cervantes che cos'è in fondo la cultura se non parlare danzare abbracciarsi farsi toccare senza doversi vergognare o accarezzare un animale che sta lì accanto a te per il semplice piacere della vicinanza o un motore che risponde ai comandi perché qualcuno tempo prima lo aveva previsto uno strumento che si lascia suonare un piccolo strumento da riporre nella sua custodia come un bambino nel suo cappottino invernale la grande soddisfazione delle piccole cose una ricetta proprio ben riuscita fare ridere un malato incazzarsi per l'ingiustizia subita da altri scegliere un rossetto le scarpe che non ti stanno né larghe né strette sono proprio quelle giuste le piccole cose un frigorifero che guarisce l'orologio di tuo padre che guardi ogni tanto anche se è fermo da allora una telefonata inaspettata ricordarsi i nomi dei morti chiedere scusa addormentarsi stanchi il primo sorso dire va bene dire guarda va proprio bene per seguire le linee del consumismo culturale ecco a voi un annuncio consumistico ma utile fatto con intelligenza artificiale perché quella naturale la gavevimo finita il circolo balasso è interamente finanziato dall'elemosina dei abbonati e grazie al fatto di non dipendere da mance statali sovvenzioni commerciali o finanziamenti politici occulti che balasso può permettersi di dire quel cazzone che gli pare sull'argomento che gli pare e poi c'è la nostra umile arte grazie al denaro degli abbonati siamo riusciti con i nostri poveri stracci con il supporto di attrici e attori amici e il solo ausilio delle idee di balasso a realizzare 150 video originali tre serie web e tre contro film di natale compreso ariel che è uscito il primo dicembre tutto questo potrete vederlo abbonandovi al circolo balasso e così almeno per una volta i soli finanziatori della cultura che vi propinano sarete voi diventa anche tu produttore di balasso anche solo per un mese anche solo con 5 euro per noi è un contributo alla nostra libertà di espressione più importante di quello che ci darebbero quelli là degli emirati arabi ciao anzaldo buon anno buon anno a te ascolta sto registrando il discorso di capodanno e ho un piccolo dubbio come si dice webinar si dice webinar va bene era per sapere no vaffanculo tu cazzone a te ascolta sto registrando il discorso di capodanno